Grande fratello, Shaila Gatta delude Avier, Elena chiude con Lorenzo. Shaila Gatta non si fida di Lorenzo Spolverato, ma l'opinionista la inchioda. Alfonso Signorini ha iniziato la puntata di stasera del Grande Fratello ponendo le sue attenzioni sul quadrilatero nato nella casa più spiata dagli italiani tra Shaila, Avier Martinez, Elena Prestes e Lorenzo. E ovviamente il conduttore ha voluto chiedere ai diretti interessati come stanno le cose. In questa occasione l'ex velina di Striscia la notizia ha rivelato di aver capito di non essere interessata al pallavolista argentino, aggiungendo però di non volere accanto un uomo al fianco come Lorenzo, visto come si è comportato ultimamente. A me attira una sua parte, ma è tutto il resto che non mi è piaciuto... Da donna non lo scelgo perché non mi piace un uomo che si comporta così. Non mi piace come uomo... Voglio un uomo con carattere... Si butta tra le braccia di un'altra senza pensare. Beatrice Luzzi è però intervenuta mettendola di fronte alla sua incoerenza, ma Lorenzo non è altrettanto libero di conoscere Elena? Tu invece ti sei permessa da uno all'altro. Shaila si è però difesa cercando di spiegare il suo punto di vista. Non è finita qua perché c'è poi stato un confronto tra Avier e Lorenzo, il quale ha ammesso di avere ancora un forte interesse nei confronti dell'ex velina lasciando quindi con un pugno di mosche in mano Elena. Avier Martinez profondamente deluso dell'ex velina di Striscia la notizia. Successivamente Alfonso Signorini ha avvertito Avier che una notte di questi giorni Shaila Gatta, parlando a tu per tu con alcune concorrenti del grande fratello, è venuta finalmente allo scoperto. Detto questo il conduttore del reality show dell'ammiraglia Mediaset ha mandato in onda il video di questo momento in cui la concorrente ha ammesso di essere attratta da Lorenzo Spolverato. Io sono attratta da Lorenzo. A me piace lui, però non posso perché ha sbagliato. Ormai la situazione è andata a finire così. Finita la clip Avier non ha nascosto tutta la sua delusione nei confronti di Shaila, che in queste ore è stata attaccata da Jessica Notaro, tutti i nodi vengono al pettine. Qua cambiano le cose. Devo aggiungere altro? Penso non ci sia niente da aggiungere e tu non me l'avevi detto. Non arrampicarti sugli specchi e io mi fermo. Lorenzo Spolverato e Elena Prestes, acceso confronto nella casa. Alfonso Signorini ha poi dato modo di confrontare la modella brasiliana e Lorenzo. E la prima ha rivelato di non avere la minima intenzione di continuare la conoscenza con quest'ultimo. Te non ti voglio più vedere. Non c'è più questa cosa divertente. Per me è finita. Pensavo fosse sincero con me, ma da oggi in poi non c'è più niente. Il fatto che tu sia in dubbio mi ha fatto ricordare delle cose spiacevoli. Il concorrente del grande fratello ha quindi dichiarato di aver preso a cuore solo la sua sofferenza che è uscita in questi giorni. Da lì a poco i due hanno dato vita ad un accesissimo scontro. Elena non ha però fatto dietro front, dando del bugiardo al coinquilino. Sei un bugiardo. Hai giocato con me e con lei. Non ti voglio il mio fiato.